Petizione Popolare Raiano contro le strade dissestate. Sono oltre 200 le firme raccolte per la manutenzione e messa in sicurezza delle due importanti strade rurali di Via del Portone e Via Giardinella. Il comitato promotore della petizione, coordinato dall'ex sindaco Ennio Mastrangioli, chiede per questo un incontro al sindaco Marco Moca e all'amministratore unico di Cogè e San Vincenzo Margiotta. Sono anni che le due strade versano in condizioni veramente disastrose a causa di mancate manutenzioni ordinarie e straordinarie. Non risolvibili con semplici e veloci rattoppi come quelli fatti sporadicamente dall'amministrazione comunale, sottolineano i promotori della petizione. Buche e vere e proprie voraggini sono le caratteristiche attuali di Via del Portone e Via Giardinella, nonché della stragrande maggioranza della viabilità rurale di Raiano. Secondo i firmatari, a deteriorare ulteriormente le condizioni delle due strade, contribuisce il passaggio continuo giornaliero dei due mezzi leggeri e pesanti d'Ecogesa per conferire o prelevare rifiuti della stazione ecologica situata in località Il Pozzo, da cui l'iniziativa popolare che ha incassato più di 200 consensi.